ciao a tutti ragazzi benvenuti bentornati sul mio canale per questo nuovo video dedicato a captain subasa dream team è un video un po diverso dal solito ragazzi non sentite che non c'è nessuna musica di sottofondo non ho neanche aperto il gioco in questo momento ci sarebbero state tante cose belle da dire quest'oggi stamattina abbiamo alle nove abbiamo ricevuto una notifica che ci sarà uno scenario interamente dedicato ai nuovi giocatori quelli propri originali creati apposta da takashi per captain subasa dream team abbiamo scoperto che finalmente la club ha raggiunto un accordo con la nazionale messicana e quindi stanno per arrivare ugo ramirez ed espadas in versione attaccante con le maglie ufficiali del messico samurai a tutti gli effetti per il ciclo quando bardi finalmente trova un espadas nuovo e la club subito gliene butta fuori un altro si è stata è stata però vabbè dai bene o male lo sapevamo cioè l'avevano capito cani e porci c'erano le dribbling una tecnica di dribbling e un altro non mi ricordo se era un passaggio o qualcos'altro per espadas nel mercato delle dream ball quindi era palese che questo mese lo avrebbero messo in versione attaccante non avrei mai immaginato che sarebbe stato un samurai quindi comunque parliamo probabilmente di un giocatore limited però come vi dicevo prima non è di questo che dobbiamo parlare non dobbiamo neanche parlare della miriade di messaggi che il producer kimoto ha postato su discord uno fra i quali che annunciava che settimana prossima verranno latentizzati subasa diaz e snyder quelli che erano su quelli dream fest che erano nel banner con akai del dream fest appena concluso capito latentizzano quelli latentizzano quello subasa non quello blu hanno uno o hanno due quello no latentizzano subasa super dream fest giustamente l'hanno messo in reitap 8 volte in 16 mesi facciamolo anche latente sarebbero mille le cose da parlare ma questa mattina sono un po avvelenato il termine giusto è che sono un po avvelenato sono avvelenato il punto che se in questo momento dovesse mordermi un cobra probabilmente va in shock anafilati col cobra e quindi sapete che ci sono dei video che sono un po rischiosi da fare io ho appena visto il video del buon cataldo io ho anche scritto in privato metto le mani avanti io ho anche scritto in privato perché poi so come funziona la community su queste cose che ci marcia sopra eccetera eccetera io ho anche scritto in privato gli ho scritto su un gruppo telegram condiviso fra fra noi due e altri e altri ragazzi quindi non so se ancora già si ha già letto il mio messaggio o meno ma comunque lo leggeranno non parlerò di quello che ha denunciato tra virgolette cataldo nel nel suo video parlerò di altre denunce che c'è che ci sarebbero che ci sono da fare che però sono un pelino più problematiche perché sono un pelino più problematiche perché fino a quando dai contro alla club alla società giapponese che gestisce male malissimo in maniera pessima un gioco così bello che ci sta rovinando veramente a tutti quanti eccetera eccetera quelli sono video tra virgolette facili da fare portano easy like come si dice easy click approvazione consenso da parte da parte di tutti perché comunque sparare male parlare male su qualcuno che non può difendersi che sta dall'altra parte dell'oceano ripeto è facile lo so anche per esperienza l'ho fatto anch'io avete visto che durante l'anniversario mi hanno spalato addosso di fango alla club e voglia se ne hanno spalato addosso ma non per avere appunto dei facili consensi ma semplicemente perché sono fra quelli che ritiene che se una cosa va criticata va criticata se una cosa va difesa va difesa e quindi quando c'è da spalare del sano fango addosso alla club non è che sono uno che si tira indietro però ripeto quelle fanno per chi sta dal lato di qui della webcam fa parte dei video facili da registrare sono cose che sanno fare più o meno tutti i video più difficili da registrare sono quelli che vanno a toccare la community che vanno a toccare i giocatori anche italiani anche italiani perché sono più 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 difficili sono più difficili perché poi uno ci pensa perché alla fine sono quelle persone che ti portano visualizzazioni che si iscrivono al canale che ti lasciano i like e e quindi ci vorrebbe per fare determinati determinati video ci vorrebbe qualcuno che di tutte queste cose se ne frega fortunatamente il panorama di youtube italia non parlo naturalmente solo per quello che riguarda captain su base a dare in team sto facendo un discorso molto generico è pieno di gente che se ne frega di queste cose come per esempio in questo momento non mi viene in mente nessuno però qualcuno sicuramente ci sarà e oggi il fango addosso me lo prenderò io per questa cosa quindi metto le mani avanti ragazzi se qualcuno di voi si sentirà chiamato in causa per questo video io non farò nomi ma non per questione di passatemi il termine di paraculagine ma per il semplice fatto che voglio fare un discorso quanto più generico possibile perché è un parlo di un problema generico anche se potrei portare degli esempi più specifici però non lo farò anche per correttezza perché non tutti hanno un canale con una visibilità come la mia per potersi difendere quindi ritengo che sia una cosa giusta fare un discorso quanto più generico possibile anche se metto le mani avanti il risultato dell'immagine che state vedendo in sottofondo è un risultato della dream championship ed è stato ottenuto da è stato ottenuto è stato partorito da due ragazzi italiani che fanno parte dello stesso dello stesso club ripeto non faccio nomi a quant'altro eccetera eccetera però se qualcuno si dovesse sentire chiamato in causa si dovesse sentire offeso preso male per questo video e posso consigliargli di fare delle cose molto semplici mettere un dislike al video sacrosanto disiscriversi dal canale fuori di ball e poi andarmi ad infamare sui vari canali telegram su facebook laddove io non posso leggere naturalmente perché so che ormai si usa a fare così mi mandano poi anche gli screenshot delle conversazioni e vabbè pace pace me ne sono fatto me ne sono fatto una ragione e me ne farò ancora però io tante cose si possono dire del barde ma io per due like non mi sono mai venduto partiamo però da un altro argomento che non ha tanto più o meno che vedere con l'immagine di sottofondo avrei dovuto fare un altro screen ma purtroppo il l'autore del post in questione che è un post della community global di capitan su base a dream team dopo aver fatto una colossale figura di palta e qua non è per vantarmi giuro giuro non è per vantarmi ma buona parte del merito e anche del sottoscritto ha ben visto di rimuovere tale post dalla community global prima che io ci potessi fare uno screenshot perché parlo inizio a parlare di questa cosa inizio a parlare di questa cosa perché bene o male lo stesso pensiero l'ho letto più volte anche sulla community italiana da parte di alcuni giocatori italiani di che cosa parlava questo post il ragazzo in questione che era un giocatore non saprei dirvi la nazionalità precisa comunque medio orientale per dire dava dei codardi letteralmente a tutti quelli che si disconnettevano volutamente durante la dream championship perché perché lui poverino voleva fare il mega punteggione lui voleva giocare tutte le partite e vincere 6 7 8 a 0 con la sua squadra piena zeppa di campioni faticosamente ottenuti a suon di petrol dollari purtroppo il fatto che la gente quitta in questo gioco non gli ha dato la possibilità di far vedere a tutto il mondo quanto ce l'avesse grosso il conto in banca il conto in banca e quindi per lui tutti quelli che quittavano ha portato una serie di screenshot delle persone che hanno quittato contro di lui erano dei codardi fra queste persone non c'ero io ma avrei potuto tranquillamente esserci al signore in questione io mi sono preso una mezz'oretta di tempo perché era dovuto rispondere in lingua inglese che come ben sapete non è che io sono proprio madre lingua quindi dovuto ponderare bene anche le forme verbali e le parole io ho semplicemente risposto che e questo punto rispondo anche a tutti i ragazzi italiani che la pensavano così che non è una questione di codardia o quant'altro è semplicemente una questione di non avere un cavolo di tempo da perdere questa dream championship come avrete visto da delle ricompense per i gol segnati le partite giocate e le partite vinte ora io non dico che devo giocare solo contro gente che sono sicuro di vincere ma vale più o meno lo stesso lo stesso discorso che io ho sempre fatto anche per le partite di rango io non ho tutto il tempo del mondo io e penso l'80 per cento delle persone che gioca a questo gioco non è che ha tutto il tempo del mondo da poterci dedicare è un gioco per smartphone un gioco per smartphone per come l'ho sempre concepito io è un gioco dove ci devi giocare che ne so in pausa pranzo quando sei seduto sulla tazza e stai esprimendo la parte migliore di te giochi per cellulare capite che stiamo parlando di stiamo parlando di quello io non ho 800 ore al mese da poter dedicare a un gioco per smartphone di conseguenza non avendo neanche non essendo neanche uno di quelli che ce l'ha troppo grosso il conto corrente per me quelle 5 dreamball che mi danno una volta ottenute le 20 vittorie piuttosto che giocate le 20 partite eccetera eccetera vogliono dire tanto per il ragazzo in questione probabilmente non gliene fregava neanche niente le avrà ottenute dopo sei ore quelle 5 dreamball e se non le avesse ottenute pace c'è chi io dice oddio questo mese mi sono perso 25 dreamball gratuite fatemi strisciare la mia mastercard oro che me ne prendo 200 così giusto per compensare purtroppo non tutti possono fare questo tipo di ragionamento beati quelli che possono fare questo tipo di ragionamento io non gli do contro io parlando di queste persone rosico come un castoro tossico in crisi d'astinenza lo dico chiaramente non ho problemi ad ammetterlo e però pare che certa gente proprio non ci arrivi per la stra maggior parte degli utenti di questo gioco il tempo è limitato le risorse da investire per per compensare eventuali perdite di dreamball mensili sono limitate di conseguenza che cosa bisogna fare bisogna massimizzare al meglio possibile il tempo a propria disposizione io non gioco abbiate pazienza io non gioco contro gente che come si apre la formazione so già perfettamente che prenderò cinghiate sui denti perché se perdo tempo con quelle persone non porto a casa le ricompense minime che questa coppa mi offre di conseguenza devo quittare rifar partire il matchmaking e sperare di becare qualcuno del mio livello del mio livello non vuol dire che poi vinco di sicuro è magari perdo magari pareggio però almeno del mio livello me la gioco me la gioco contro io apro uno che vedo che cavolo ne so che c'ha genzo nuovo in porta santana super dreamfest in attacco michael misaki e e e raffaella centro io che cavolo gioco a fare ma anche con la metà di questi non dico tutti anche avendone tre di questi che cavolo gioco a fare cosa cosa gioco a fare perché non assolutamente perdo tempo e basta perdo tempo e basta e quindi quitto uno dovrebbe dire bene dovrebbe essere felice che qui ti dà per la partita vinta comunque per lui sono punte sì piccolo problema tecnico che la club ha fatto bene in modo che una partita quittata anche se ti dà tipo il 3 il 6 a 0 a tavolino per dire tu guadagni meno punti di un 2 a 0 barra 3 a 0 giocato normalmente e quindi le persone che quittano fanno girare le scatole a questi a questi maghi dei giochi da smartphone perché non gli permettono di fare i punticcioni che sicuramente li avrebbero qualificati a tokyo e pace ragazzi che cosa devo dire a me dispiace se il mio quit avrà rovinato la media stratosferica di qualcuno ma sicuramente avrete altre occasioni in future in futuro per far vedere a tutti quanto ce l'avete grosso e in questo caso no non mi riferisco al conto corrente basta aspettare la prossima la prossima coppa tanto ogni o ad ogni coppa vediamo i posti su facebook e guardate dopo sei ore sono arrivato a 20 vittorie e voi come state messi ma che cavolo fai a fare sto falso interesse a te non te ne può fregare una cippa di meno di come stanno messe gli altri vuoi solo far vedere che hai fatto 20 vittorie bravo bravo che cosa ti devo dire hai fatto 20 vittorie beato te ma non prendere per i fondelli la gente lo capiscono tutti che a te non te ne può fregare di meno dei risultati degli altri ma che hai fatto il post solo ed esclusivamente per far vedere quanto cavolo sei stato bravo e dillo chiaramente nessuno ti può dire niente anzi se qualcuno ti dice qualcosa è un pisquano lui tu fa benissimo a far vedere che sei forte che hai una buona squadra che sai giocare che ha investito magari bene i tuoi soldi non è un atto di resa maestà almeno non prendere per i fondelli la gente con un finto interesse che si si annusa lontano un miglio che in realtà è falso come una banconota da 7 euro capite che cosa che cosa voglio dire ecco e poi per fare i punteggioni comunque volendo ci sono i modi alternativi adesso mi prendo due secondi di pausa perché ho parlato già ampiamente troppo i miei polmoni sono vuoti ricarico i polmoni e riprendo con il video ok veniamo ora alla parte bella alla parte interessante la parte che mi farà piovere addosso tanta di quella merma che metà ne basta come dicevo prima l'immagine che vedete in sottofondo è presa da una partita di due giocatori di un club italiano uno dei club più forti in italia in senso assoluto ripeto non faccio nomi quant'altro non per paraculaggine ma per il semplice motivo che come ho detto prima non tutti hanno un canale youtube per potersi tra virgolette difendere e perché poi lo dico io tranquillamente uno potrebbe anche tranquillamente sentirsi di non doversi difendere da nulla nel senso che alla fine finché il gioco consente queste cose è anche lecito che la gente le sfrutti per me non è così però la mia opinione io ho sempre detto che la mia opinione vale esattamente come quella di qualunque altro non è una questione di avere ragione o di avere torto è semplicemente una questione di pensarla così o non pensarla così fine lecito e sacrosanto da qualunque punto di vista la si voglia la si voglia vedere come si ottengono questi risultati è molto semplice si entra in una chat condivisa con i membri del proprio club ragazzi mettiamoci d'accordo noi abbiamo questo giocatore è il nostro top player proviamo a mandarlo alle finali di tokyo sì dai proviamo a mandarlo alle finali di tokyo come facciamo bene perfetto il gioco ti assegna un avversario in base alle aree geografiche per evitare problemi di disconnessioni lag e quant'altro facciamo che noi facciamo partire il matchmaking tutti nello stesso momento poi se qualcuno becca lui noi utilizziamo delle squadre di palta tipo squadre da 30 33 50 mila k con in porta dei giocatori dei giocatori impensabili dei portieri tipo quello del real japan seven o di dono vanno per dire per dirne una e facciamo fare a questo nostro compagno il punteggione per mandarlo a tokyo ecco questo naturalmente non è una cosa solo dei club italiani il buon stella signor che in questo caso ha tutta la mia solidarietà si è visto chiudere una delle sue pagine facebook per aver denunciato questa cosa portando come esempio due club giapponesi sapete che l'algoritmo di facebook è un algoritmo abbastanza infame nel senso che se delle persone si mettono d'accordo per far partire delle segnalazioni a memoria a memoria delle segnalazioni a manetta l'algoritmo di facebook non sta a contare che tu possa avere torto o possa avere ragione vede vede tutte queste segnalazioni che arrivano e ti chiudono e ti chiudono la pagina la pagina facebook spero che non funzioni uguale all'algoritmo di youtube altrimenti io alla fine di questo video sono fregato malissimo anche se dovesse essere pace fatto sta che alla prossima dream championship ragazzi se vi aspettate di vedere i migliori giocatori del mondo sì probabilmente buona parte buona parte di quelli che parteciperanno faranno effettivamente parte dei migliori giocatori del mondo ma sicuramente mi viene da dire ci sarà anche qualcuno che farà solo parte di un club ben organizzato tutto qui poi ripeto questa cosa qualcuno può andare andare bene qualcuno può andare male qualcuno la può la può ritenere lecita qualcun altro invece la può tenere la può ritenere tra virgolette fuori regolamento come se fosse un cheat in realtà non si tratta di cheat per questo in questo caso è semplicemente un normalissimo glitch il glitch vuol dire che tu stai sfruttando una falla del gioco per ottenere il vantaggio ecco il fatto che il matchmaking ti possa accoppiare con dei tuoi compagni di club è oggettivamente secondo me una falla del gioco quindi per come la vedo io dovrebbe essere un glitch a tutti gli effetti non si dovrebbero usare i glitch per ottenere per ottenere vantaggi in game ma fino a quando il gioco non lo vieta categoricamente io non sono assolutamente nessuno per dire a questi ragazzi che fanno male o meno però mi sembra anche altrettanto giusto che determinate situazioni vadano denunciate un parolone fortissimo non mi piace non mi piace utilizzarlo vadano messe in risalto esattamente come poi vanno messi in risalto i veri cheater cioè quelli proprio che usano i cheat fatti fatti e finiti gli imbroglioni vari eccetera eccetera sono solo delle situazioni da da mettere sotto la giusta la giusta luce con i giusti riflettori l'anno scorso la dream championship se non ricordo male aveva un limite massimo per le squadre da 720 mila punti quest'anno la dream championship è la dream championship del vale tutto e dobbiamo come si dice rassegnarci al fatto che tra il vale tutto valgono anche queste cose queste cose qui ci si rassegna solo a quelle a me non me ne può fregare di meno perché io non ho mai avuto ambizione di né di qualificarmi né di fare punteggioni io ripeto a me quando parte la da quando l'avete visto dal primo video della dream championship il mio amore per la dream championship era palese quello che era il mio amore della dream championship quindi io proprio sono quanto più distaccato possibile da questa situazione io ci partecipo solo ed esclusivamente per provare a portare a casa quante più ricompense possibile già so che quelle delle 20 vittorie non riuscirò a farla perché sono a quota 10 oggi che manca un giorno e mezzo alla fine della coppa quindi le 20 sicuramente non le porterò a casa proverò a portare a casa almeno quelle delle 20 partite giocate per adesso sono a tipo 40 quitte o forse 60 quitte e 12 partite giocate giocate effettivamente ripeto lo sottolineo per l'ennesima volta voglio essere quanto più chiaro possibile perché l'ultima volta che ho tirato in ballo un club italiano sul mio canale mi è piavuto addosso un gavettone di liquame ma che e non avevo neanche parlato esplicitamente male avevo solo fatto le congratulazioni ad un altro club italiano e quelli dell'altro club se la sono presi a merda letteralmente quindi adesso abbiate pazienza ma ci vado un pochettino con i piedi di piombo e lo ribadisco non sto facendo accuse dirette verso nessuno perché ecco come ho detto prima finché il gioco lo permette e lo fanno tutti è vero lo fanno tutti tutti i top club di questo gioco con i top giocatori di questo gioco stanno utilizzando questo scamotaggio quindi non è che in questo caso i giocatori italiani stanno facendo meglio o peggio degli altri però noi spesso e volentieri e qui chiudo facciamo la facciamo troppo facile puntare sempre il dito verso la club quando c'è qualcosa che non va quando c'è qualcosa che ci sporca il gioco ecco ogni tanto magari dovremmo ricordarci che lo sporco tra virgolette brutto termine ma passatemelo dai passatemelo e per capirci meglio lo sporco ogni tanto ce l'abbiamo anche noi in casa semplicemente si nasconde abilmente sotto il tappeto pace belli alla prossima ciao 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 ciao